Sulla salute dei bambini non si scherza, lo scrive su Facebook la sottosegretaria Maria Elena Boschi spiegando che il Consiglio dei Ministri discuterà oggi il testo sui vaccini messo a punto in settimana ma sul tema si riaccende lo scontro tra la ministra dell'istruzione Fideli e della salute Lorenzin un primo accordo sull'obbligo vaccinale per iscriversi a scuola è stato raggiunto ora il nodo da sciogliere in quale fascia di età sarà obbligatorio da 0 a 10 anni per la ministra Lorenzin, ossia per nidi, materne e scuole elementari solo fino a 6 anni per la titolare dell'istruzione Fideli che teme un conflitto tra diritti costituzionali fondamentali, salute e istruzione appunto e propone piuttosto sanzioni per i genitori inadempienti ipotesi questa sulla quale c'è invece il no di Lorenzin eventuali multe dice penalizzerebbero i meno abbienti e sottolinea inoltre che non tutti i bambini frequentano l'asilo quindi se l'obbligo si fermasse alle soglie delle scuole elementari perderebbe multa della sua efficacia per la copertura di massa accordo dunque ancora da raggiungere sul decreto atteso in consiglio dei ministri mentre sostengono il principio di reintroduzione dell'obbligo vaccinale società scientifica, ordine dei medici, istituto e consiglio superiore di sanità tanto più a fronte di un richiamo dell'organizzazione mondiale della sanità in Italia e Romania scrive l'OMS il record negativo di morbillo con quasi la metà del totale dei casi in Europa l'obbligo in realtà in Italia c'è stato dal 1967 al 99 e fu eliminato perché visto il diffuso accesso alla profilassi non era più retenuto necessario le malattie per le quali esiste un'obbligatorietà sono difterite, poliomelite, tetano ed epatite B tutti gli altri sono vaccini cosiddetti raccomandati anche se la loro utilità è fuori dubbio visto che tra questi c'è proprio quello contro il morbillo tornato a colpire prepotentemente nel nostro paese grazie